Ci sarà anche il logo del 50esimo anniversario della Regione Piemonte sulle magliette indossate dai 3.000 atleti attesi a Torino, l'8 e il 9 febbraio per la regata internazionale di fondo d'inverno sul Po. La manifestazione, giunta quest'anno alla 37esima edizione, alla cui apertura parteciperà anche il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, è stata inserita nel calendario delle celebrazioni per i 50 anni della Regione, a testimonianza di come lo sport possa essere ambasciatori di valori positivi e di corretti stili di vita. Quest'anno la società Canottieri e Speri e organizzatrice dell'evento ha voluto infatti affiancare all'aspetto agonistico il tema dello sport come veicolo di salute, promuovendo in collaborazione con AIRC, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, una giornata di approfondimento su cura e prevenzione. L'idea è quella di sport per stare bene, per stare in salute, ma non in un'ottica tra virgolette banale come abbiamo sentito fino ad oggi, in un'ottica concreta, attraverso la testimonianza di atleti che attraverso lo sport, attraverso il canottaggio hanno combattuto e vinto, quello importante, vinto, mali che fino a qualche tempo fa si definivano incurabili. Ovvio che accanto allo sport ci debbano essere tutte le terapie e le cure quando si parla di questo tipo di mali, ma l'attenzione per lo sport è ormai un dato scientifico e anche attenzione alla salute. Nel fine settimana dell'8 e 9 febbraio saranno un migliaio gli equipaggi in acqua, canottieri provenienti da tutta Italia e a iscrizioni ancora aperte da Francia, Svizzera, Grecia, Irlanda e Israele, pronti a sfidarsi sulla distanza di 5.000 metri con partenza dalla passarella Turin Marathon e arrivo davanti ai Murazzi. Tra i più attesi proprio gli atleti piemontesi che nel 2019 hanno fatto incetta di podi e trofei. I numeri sono veramente impressionanti, credo che un anno come il 2019 non ci sia mai stato, parliamo di numeri veramente grandi, parliamo di trionfi a livello nazionale e internazionale che viaggiano sopra le 150 medaglie d'ora e credo che sia una cosa che non si verifica da tempo, ma non so quando si verificherà di nuovo una serie di vittorie di questo tipo.